Si è svolta sabato mattina alla Sala Raffaello dell'Omonimo Collegio di Urbino l'ormai consueta cerimonia di premiazione dei soci e figli di soci della Banca di Credito Cooperativo del Metauro. Sono stati 29 ragazzi diplomati con voto superiore a 90 su 100 e 42 i laureati suddivisi tra primo ciclo di laurea triennale e secondo ciclo di laurea magistrale con voto superiore a 105 su 110. Prima della cerimonia ai premiati è stata offerta una visita guidata a Palazzo Ducale. Questa nostra iniziativa che vuole premiare le eccellenze del nostro territorio, i giovani che hanno raggiunto il massimo dei voti nelle loro specialità, nell'università, nelle lauree magistrali ma anche negli istituti superiori praticamente sono veramente, rappresentano la risorsa per la nostra banca in quanto o soci o figli di soci ma soprattutto per il nostro territorio. In totale l'istituto di credito ha segnato 31 mila euro. Nel pomeriggio poi si è tenuta all'assemblea annuale degli associati Spazio Giovani, una realtà nata nel 2015 e composta da un gruppo di giovani soci che credono nei valori della cooperazione e nello sviluppo del territorio. È stata una bella esperienza, una bella soddisfazione sicuramente ed una bellissima iniziativa da parte della banca che comunque crede nei giovani laureati. Questa mattina si è parlato tanto anche di Spazio Giovani che è dedicato proprio a un'associazione che fa parte della banca. Io l'ho sempre solo vista nella banca scritta, non la conoscevo in realtà però le iniziative che hanno proposto oggi sono comunque molto interessanti quindi vedrò di attivarmi. Bene, grazie.